Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Nella giornata di domenica 3 dicembre Mara Veniera ha ospitato Belen Rodriguez in studio e lei si è soffermata sulla fine del matrimonio con Stefano De Martino, a causa anche di numerosi tradimenti scoperti da lei. Inoltre, ha ammesso di aver sofferto di depressione e di essere arrivata a pesare meno di 50 chili, quindi è stato necessario il suo ricovero in clinica. Ora è stata la madre Veronica Cozzani ad aggiungere dei dettagli su questa brutta vicenda. Belen Rodriguez è stata ovviamente supportata dalla sua famiglia, in primis dalla madre Veronica, la quale ha inevitabilmente seguito l'intervista televisiva della figlia e ha commentato con i suoi follower su Instagram le parole della showgirl. Ha confermato che si è trattato di un momento difficilissimo e ha voluto sostenere pubblicamente l'Argentina, che ora piano piano sta recuperando dopo quella fase molto complicata. Belen, prima che la madre Veronica intervenisse sui social, aveva dunque fatto sapere a Mara. Ho contato 12 donne, alcune le ho anche sentite telefonicamente e mi hanno confermato la storia. Non dormivo più, ho perso tantissimo peso e sono arrivata a 47 chili, racconta. La depressione contro la quale ha combattuto, ora sono fuori, ho vinto e sono più tosta che mai, ha spiegato. Aggiungendo che in questo momento così delicato Stefano non le è stato vicino. La signora Cozzani ha quindi scritto su Instagram, condividendo il video dell'intervento di Belen a Dominicain, andiamo figlia mia, tutti possiamo cadere in basso. L'importante è potersi alzare, ti amiamo. Poi sulle critiche, non è vero, parlate senza sapere e questo è triste. Lei ha toccato il fondo, è così, adesso sta bene e questo è importante. Il resto è niente. C'è anche, tra gli hater, chi ha insinuato che abbia fatto una sceneggiata e a quel punto la mamma di Belen si è arrabbiata. Una follower ha scritto, se è stata male mi dispiace punto ma se è tutto un teatrino per i soliti giri di copertine e ospitate, beh mi dispiace anche per questo. Ora si usa fare queste confessioni in tv ben pagate. Lasciatemi essere un po' perplessa, una settimana era in barca con Stefano e i bambini, dopo questa settimana già fotografata con Elio a un matrimonio. In giro, in montagna appunto poi si vocifera stia male, e lì le foto di quel dimagrimento che era solo in quelle foto, ditemi quel che volete ma io non le credo. Corona ha detto che lei sa prendere per i fondelli la gente, potrebbe aver imparato dal paparazzo. A quel punto Veronica Cozzani ha aggiunto, ma cosa di? Ma è stato il periodo più brutto della mia vita come per tanti genitori. Vedere stare così male i figli.